Ma tu non sai la ricchezza che puoi affrisire conoscendo persone di altre nazionalità, con un vissuto diverso dal tuo, per accrescere il tuo bagaglio personale, magari. Bagaglio? Alla malpensa, mi fanno sempre un sacco di storie questo bagaglio, l'uomo lì c'è troppo pesante, il bagaglio male non deve superare i 5 kg. Figurati se adesso penso anche ad accrescere il mio bagaglio. Vabbè. Non si possono fare discorsi seri con le due due volte. Dai, venite che vi offro un caffè, così possiamo parlare di questo bagaglio. Ma sì, dai, vada per il caffè, va. Sì, ma era un marocchino. Eh? Un caffè marocchino intendevo. Eh no, eh? A casa mia il marocchino no. No!